Ciao a tutti, finalmente riesco a farvi la recensione di questo famosissimo integratore che si chiama MSM e questa sigla è quella del nome che vedete scritto qui, che neanche vi pronuncio perché è difficile da pronunciare ho molto da dire su questo integratore, ora sbaglierò ogni 3 secondi però prima di farlo voglio dirvi dove l'ho acquistato lo trovate normalmente, credo che in un erboristeria lo vendono o comunque lo potete ordinare in farmacia però io personalmente vi consiglio di acquistarlo da questo sito che si chiama MyProtein Italia basta cercarlo su Google ma in ogni caso vi lascerò tutte le indicazioni per trovare il sito nell'info box lo trovate appunto su questo sito, in questo pacco gigante ed è molto conveniente comprarlo sul sito perché risparmiate molto rispetto comunque al prezzo che vi può fare una farmacia io mi sono trovata benissimo con le persone che gestiscono questo sito, sono gentilissime raramente mi trovo a trattare comunque con persone così gentili soprattutto quando riguarda acquisti su internet quindi non posso che consigliarvelo è un sito molto completo dove trovate anche altri generi di integratori anche proteine per chi fa sport, è totalmente di origine vegetale anche se credo che qualcosa l'abbiano anche di origine animale ma non credo, non ne sono sicurissima io comunque ho guardato la parte vegetariana perché non so se lo sapete comunque sono vegetariana e trovate anche un reparto dove hanno integratori bio tra cui c'erano appunto anche questi sono molto completo il sito, ci sono tutte le spiegazioni dei vari integratori di cosa fanno, il dosaggio io davvero non ho niente da dire un sito fatto davvero bene e facilissimo da consultare e hanno una vastissima varietà di integratori io ho preso l'MSM e la spirulina che sarà l'integratore di cui successivamente vi parlerò e me li hanno mandati loro del sito quindi devo specificarlo per questioni di correttezza ma comunque non mi hanno detto di farci una recensione o di dire necessariamente cose positive e semplicemente me li hanno mandati perché mi hanno fatto appunto un favore però tutto quello che vi sto dicendo è la pura verità cioè davvero sono persone cordialissime se volete appunto avere la conferma basta appunto che gli mandate un'email e vedrete che sono persone disponibilissime e i prezzi sono davvero vantaggiosi di fatto io prima di chiedere una collaborazione comunque avevo intenzione di comprarli però poi si sono offerti comunque loro di mandarmeli e sono stati davvero gentilissimi e quindi adesso entriamo nello specifico e parliamo di questo integratore ho molto da dire innanzitutto la fase in cui l'ho assunto è stata una fase molto travagliata perché ho avuto problemi di ogni genere non legati ovviamente all'uso di questo integratore ma problemi miei fisici perché si è scoperto che insomma ho avuto dei problemi sono andata all'ospedale più volte quindi ho dovuto necessariamente staccare l'uso di questo integratore ed ero molto dispiaciuta perché pensavo appunto che non avrebbe fatto il suo effetto e inizialmente l'ho incominciata a prendere e la cosa è stata stabile per una settimana dopodiché mi sono incominciata a sentire male e poi sono finita all'ospedale ma vi ripeto per problemi miei di cui non sto qui a parlarvi non era assolutamente legato all'uso di questo integratore perché l'ho anche detto al mio medico e mi ha detto che raramente questo genere di integratore porta a far star male una persona perché comunque è un integratore molto naturale quindi non vi potrebbe sono proprio casi rarissimi in cui c'è già presente un'allergia ai componenti di questo integratore quindi non c'entra niente con questo integratore potete prenderlo tranquillamente però io per correttezza vi devo dire che l'ho dovuto staccare più volte per questo problema quindi l'ho preso stabile per una settimana poi due settimane senza poi l'ho continuato mi restavano le ultime due settimane di cura dopodiché sono stata di nuovo male e non l'ho potuto prendere per altre due settimane perché ho dovuto fare una cura di antibiotici e altri medicinali vari quindi non volevo aggiungere al mio fisico anche altri integratori per non appesantire troppo lo stomaco e poi dopo due settimane ho completato la cura che restava le ultime due settimane quindi in sostanza praticamente si è protatto per quattro mesi tutto questo casino appunto dell'integratore però io devo dire che nonostante questo nonostante l'abbia staccato più volte io mi sono trovata davvero bene ed è uno di quegli integratori che ricomprerò sicuramente a differenza di tanti altri che solitamente compro così per provarli però con questo mi sono trovata molto bene poi vi spiego il perché adesso vi parlo un po' delle caratteristiche dell'MSM allora innanzitutto ha numerose proprietà non è un integratore specifico per la crescita dei capelli anche se come avrete visto dal titolo sicuramente che metterò in questo video ci sarà scritto integratore per capelli lo consigliano come integratore per capelli come se fosse diciamo una controindicazione utilizzando controindicazione tra virgolette dei benefici dell'MSM adesso vi spiego perché innanzitutto per quanto riguarda i suoi particolari benefici quello per cui è stato studiato sono le articolazioni principalmente l'MSN ha proprietà antinfiammatorie aiuta lo stimolo della sintesi della cartilagine all'interno appunto della muscolatura quindi per chi soffre di scarsa cartilagine e dolori alle giunture l'MSN è molto consigliato per aiutare un apporto appunto di proteine a pelle e capelli favorisce la cicatrizazione delle ferite e inoltre ha anche una funzione di normalizzare le funzioni gastrointestinali e queste sono diciamo tutte le caratteristiche che ho trovato su internet che vengono appunto date all'MSM cos'è in particolare MSM? la glus glucosamina scusate questi termini tecnici io non li so pronunciare è una proteina che viene prodotta naturalmente al nostro corpo e che è contenuta all'interno dell'MSM e aiuta diciamo il corpo a mantenere il benessere appunto della cartilagine dei tessuti connettivi del nostro corpo vi giuro che ho dovuto studiare un sacco per imparare queste cose troviamo appunto le proteine contenute all'interno dell'MSM naturalmente all'interno delle nostre giunture e quando c'è una carenza appunto di queste proteine ci sono appunto questi dolori le giunture, dolori muscolari che possono essere appunto combattuti tramite l'uso di questo di questo integratore alcuni, secondo uno studio hanno sostenuto che in realtà questo integratore non funzioni a niente e questo perché è un integratore prettamente a base di zinco lo zinco è uno di quei composti che noi troviamo normalmente all'interno della dieta di ogni persona una normalissima dieta perché si trova in cibi dove troviamo anche il potassio il sodio e il cloro che sono praticamente delle proteine che il nostro corpo assimila da moltissimi cibi e quindi alcuni dubitano in realtà che mai una persona potrebbe avere una carenza di zolfo tanto da avere bisogno di questo genere di integratori perché li troviamo appunto nelle verdure nell'aglio, nei semi nelle nosi nelle varie verdure comunque che consumiamo sono presente praticamente in tutte le verdure e se non mi ricordo male anche nel tuorlo d'uovo e quindi praticamente questo necessario apporto di zolfo sarebbe comunque già garantito da una naturale dieta una naturale dieta che facciamo tutti e quindi alcuni diciamo dubitano che serva a qualcosa però in realtà non lo prendiamo per avere più zolfo quindi per aiutare di più le articolazioni il fatto che favorisca proprio la rigidità delle articolazioni e che contenga quindi solforati e zolfo all'interno e fa in modo che questo integratore sia anche particolarmente consegnato proprio per la crescita dei capelli infatti anche quando alle pecore viene aumentata la dose appunto di zolfo all'interno della loro dieta naturalmente producono più lana e quindi e fare praticamente fra questo io avevo visto su internet che alcuni dicevano che faceva praticamente aumentare la circolazione del sangue e quindi ti faceva produrre ti faceva crescere più velocemente i capelli stronzate e in realtà quello che davvero fa è questo aiutando le articolazioni aiuta anche proprio il bulbo del capello a crescere più velocemente detto comunque in parole molto povere perché io non studio medicina ma studio giurisprudenza quindi per me queste cose sono arabo però ho studiato un po' su internet per appunto dirvi tutto quello che c'è da sapere e quindi praticamente fa questo perciò la controindicazione tra virgolette di cui vi parlavo era questa che aiutando i vari tessuti aiuta anche la crescita dei capelli come mi sono trovata io io mi sono trovata splendidamente avevo già fatto un video sull'integratore per capelli che si chiama iVits sicuramente lo troverete già linkato nel video se siete dal cellulare non li vedete però potete andare a cercare nella mia playlist che c'è proprio una playlist sugli integratori e sull'alimentazione dove ci sono anche altri consigli sugli integratori io avevo già fatto due video riguardanti appunto gli integratori per capelli sono quello sull'AirVits e quello su come cavolo si chiama il lievito di birra ecco non mi veniva ma questo non ho niente a che vedere io ho notato una crescita dei capelli esponenziale cioè non mi era mai successo nella mia vita io ho i capelli molto lunghi quindi già comunque fanno fatica a crescere quando crescono ovviamente non te ne rendi tanto conto rispetto a quando magari ce l'hai sulle spalle che vedi che comunque piano piano cominciano a scendere i miei capelli vanno già proprio sul fondo schiena quindi è difficile per me accorgermi che stanno crescendo ma io da quando uso questo integratore per me proprio cioè sono cresciuti i capelli in una maniera assurda e sono cresciuti anche capelli nuovi perché proprio all'attaccatura dei capelli mi accorgo che ho quei capellini piccolini fastidiosi che adesso stanno incominciando a crescere e tutto questo però l'ho incominciato a vedere dal mio secondo ciclo quindi per le prime due settimane non ho visto nessun cambiamento poi già quando lo prendevo da più tempo ho incominciato a vedere proprio che i capelli crescevano me lo dicono anche le altre persone che mi sono state accanto perché mi dicevano ma ti stanno crescendo tanto i capelli che stai prendendo che stai mangiando e ho consigliato a tutti di prendere questo integratore perché davvero mi sono trovata benissimo io non mi aspettavo non ci credevo perché comunque credevo che un integratore invece che fosse più specifico per i capelli come Arviz potesse fare molto di più di un integratore che in realtà nasce per un'altra funzione ma in realtà non è così e tra l'altro ho ricevuto anche tanti 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 benefici anche a livello delle articolazioni perché io non faccio molto sport però chi mi segue su Instagram sa che io pratico l'equitazione non vado spessissimo perché per me è un hobby poi tra l'altro sono impegnatissima con lo studio e il mio istruttore di equitazione si trova in un'altra città rispetto a quella dove mi trovo io quindi è un problema anche arrivarci però quindi cosa succede che ogni volta che ci vado praticamente una volta alla settimana una volta ogni due settimane io torno a casa con le gambe distrutte e nel periodo in cui prendevo invece MSM notavo che i dolori muscolari erano diminuiti almeno della metà immaginatevi l'acido lattico di una persona che sta per due settimane seduta col culo sulla sedia perché io comunque studio dalla mattina fino alla sera e poi praticamente va a fare un'ora un'ora e mezza due ore anche di sport seduta a cavallo quindi io praticamente alleno soltanto la parte della muscolatura dei glutei e delle cosce e tornavo a volte a casa davvero non problema anche sedersi l'indomani mi faceva davvero troppo male e questo integratore mi ha aiutato tantissimo quindi ve lo consiglio anche sotto questo punto di vista per non parlare poi comunque della crescita dei capelli per chi se lo sta chiedendo non ho notato sinceramente che faccia crescere più velocemente anche i peli in generale non l'ho notato perché comunque a me mi crescevano poco prima i peli nelle gambe e mi continuano a crescere poco anche adesso che ho finito la cura quindi se io dovessi dare un voto a questo integratore per la crescita dei capelli e per la muscolatura sicuramente gli darei 10 perché niente niente di quello che ho mai provato né un'alimentazione specifica per far crescere i capelli né un integratore specifico per far crescere i capelli mi hanno dato tanti benefici quanto quelli di questo prodotto c'è sempre da dire ve lo specifico sempre in tutti i video che vi faccio sull'alimentazione che ognuno ha il suo fisico quindi non è detto che se io mi sono trovata bene questo integratore può funzionare anche per voi diciamo che c'è una buona probabilità perché comunque io sono un soggetto normale faccio un'alimentazione normalissima anche se sono vegetariana ho un apporto di tutte quelle che sono le proteine le vitamine e anche il ferro che possiate immaginare perché comunque faccio un'alimentazione molto varia quindi c'è una buona probabilità che se siete dei soggetti normali funzioni anche per voi detto questo vi parlo un pochettino di come si usa si assume MSM durante i pasti possibilmente potete anche non farlo durante i pasti solitamente lo faccio a colazione a merenda perché ne prendo due al giorno il sito consiglia di prenderne se non mi ricordo male tre sì una capsula tre volte al giorno preferibilmente con un pasto io non amo il dosaggio che solitamente consigliano io faccio sempre un sottodosaggio e questo per aumentare i tempi di esposizione all'integratore ma anche per non esagerare troppo e vedere un po' come reagisce il corpo e tutto quindi io prendevo due capsule due volte al giorno siccome il video sull'altro integratore Elviz mi sono arrivate tante domande siete state carinissime tutte a scrivermi siete state contente che vi ho fatto questa recensione e tutto tra l'altro ho un mare di visualizzazioni quel video cosa che non mi sarei mai aspettata e molti però mi hanno fatto domande dicendomi come ti sei trovata come mi sono trovata ho fatto un video di 15 minuti per dirvi come mi sono trovata quindi ci sarà un motivo se ho fatto un video perciò non mi fate di queste domande perché già che comunque faccio fatica a rispondere a quelle pochissime domande che mi arrivano perché comunque il mio è un piccolo canale poi in più comunque devo essere anche ripetitiva io ho tanto da fare durante la mia giornata non voglio dire che mi disturbate però non mi fate comunque delle domande a cui c'è una risposta nel video perché significa che io ho parlato per mezz'ora inutilmente un'altra ragazza mi ha chiesto ma quante volte le devo prendere le capsule allora se c'è scritto due capsule una volta al giorno significa che le due capsule le dovete prendere contemporaneamente se c'è scritto due capsule due volte al di significa che voi per due volte dovete prendere una capsula quindi tutto dipende in base a quello che c'è scritto sulla confezione in particolare questo c'è scritto tre capsule tre volte al giorno quindi in tre momenti diversi della giornata e io però ne prendevo due capsule in due momenti diversi della giornata anziché tre e mi è rimasta l'ultima capsula perché ve la volevo fare vedere questa è una grandezza madonna che casino questo ve la faccio vedere perché alcune persone so che hanno difficoltà ad ingoiare e perché anche in quel video qualcun altro mi aveva chiesto ma la posso sciogliere nell'acqua no non si fa mai perché se gli hanno fatto un rivestimento all'integratore un motivo ci sarà quindi non la potete sciogliere nell'acqua ve la dovete prendere così se ci riuscite altrimenti cercate di vedere se su internet o sul sito che vi ho consigliato vendono anche le singole bustine da sciogliere nell'acqua e la prendete per soluzione orale anziché come capsula quindi non mi fate neanche quest'altra domanda penso di aver risposto a tutte le domande che solitamente mi fate in questi video e eventualmente se c'è qualcosa a cui non ho risposto mandatemi un messaggio io comunque come vi ho detto mi sono trovata benissimo ah non vi ho detto quante pillole ci sono qui dentro nella confezione che vi vendono sul sito ci sono 120 capsule quindi sarebbe praticamente il dosaggio per un mese che io ho portato per un mese e mezzo prendendo anziché 3 capsule 2 capsule si consiglia comunque l'assunzione di questo di questo integratore per almeno 3 mesi io sicuramente lo ricomprerò perché ve l'ho detto mi sono trovata benissimo se volete vedere tutti gli altri video che ho fatto vi ricordo che sul mio canale c'è una playlist dove ci sono tutti gli elenchi di tutti i vari argomenti trattati tra cui anche questo appunto dell'integratore dell'alimentazione e il mio il mio canale non si occupa solo di questo lo sapete mi occupa anche di tante altre cose come ad esempio gli spignatti o comunque le cubie in generale quindi se volete mi fa piacere se vi volete iscrivervi al mio canale potete farlo scrivendovi quello che vi compare qui sotto c'è scritto iscriviti oppure cliccando in questo riquadro che vi rimanda il mio canale e vi lascio anche i miei ricapi di facebook e instagram per mandarmi qualche mail se volete o comunque per seguirmi su instagram spero che il video vi sia stato utile ci vediamo prossimamente con il video sulla spirulina un bacio a tutti e buona serata e buona serata